Dobbiamo essere pronti! Dobbiamo essere pronti! Dobbiamo essere pronti! Perché alla tua tappa hai ancora il servizio militare? È una storia lunga, eh? Soldato, figlio mio, mi dai un po' di fango, per favore? Io ho ammazzato tante persone. Adesso dici dove sta la testa. Non possiamo ottenere questa statua, Temer. E perché? Dicono che chi vuole la pace con i greci è un traditore. Questo è Ali, accanto alla sua statua, che domani partirà per la zona greca. La statua verrà installata nella sua vecchia casa. È vietato! Qui non si può prendere il fango! Siamo andati a cercare i greci per vendicarci. Li abbiamo portati là nel fango, vicino al pozzo. Li abbiamo sparati in testa e buttati nelle fosse. Aiuto! No, 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 no.